Sì, oggi siamo qui per dirvi due cose davvero molto importanti. La prima è che adesso, stesso proprio in questo video, dovremmo fare il trasloco. Infatti, dobbiamo smontare un po' tutta la casa. Anche se l'avevamo modificata da poco, però la dobbiamo smontare. Perché dobbiamo andare a vivere in una nuova casa. E qui verrà una signora che ci ha raccontato un po' la sua storia. Era povera, poi è diventata ricca, si è trasferita in una casetta. Però, siccome è troppo piccola e fra un po' gli nasce pure la bambina, deve trasferirsi. Per cui, adesso, noi gli lasceremo i mobili, ma ci porteremo via tutte le nostre cose. E in più, io, fra pochi giorni, inizierò l'università. Si, andrà in un università, in un college, più che università. E sarà tipo un due giorni lì, poi torna, poi ci va un altro giorno, poi torna, diciamo un pochettino così. Sì, e sono davvero super felice. Ma comunque, bella le ciance, prendiamo un bel po' di scatoli, perché serviranno. Ok ragazzi, noi ne abbiamo presi tre. Adesso ne prendo subito uno. In questo video vi dico già che sarà la maggior parte parlata da me. e metto tutti i vestiti di mia figlia dentro uno scatolo. E questo già è uno. Tutto il cibo, le cose per piatti, cose varie, li lasceremo alla signora. Perché tanto nella casa dove andremo a trasferirci, già ci sono tutte cose pronte. Compresa anche i mobili, il cibo, diciamo, è tutto abbastanza allestito in maniera molto bella. Noi comunque ci dobbiamo portare semplicemente le cose che ci appartengono, che non possiamo lasciare. In questo zaino vorrei mettere tutti gli slime, i libri, cioè le mascherine, volevo dire, scusatemi. I libri, stuccio, l'orologio, ma non ci entra, benissimo. Quindi ci mettiamo semplicemente quest'altro pupazzetto, ma non ci entra manco quello. Quindi adesso chiudiamolo. E li mettiamo entrambi i zaini qua dentro, più tutte queste cosine. Il mio portocchiali, la Wii, la lampada e la piantina, l'altra piantina. E' perfetto. Oppure quest'altro scatolo è pronto. Adesso, prendendo l'altro scatolo, queste cose le farà mio marito. Quindi, tieni amore. Ok, finalmente è arrivata la mia parte. Allora, dobbiamo trasportare tutte le cose del bagno. Quindi, trasportiamo un po' tutto. Perché sì, c'erano, ma tipo tutte queste cose, quindi creme, eccetera, non ci sono. Per cui... Per cui le dobbiamo portare, perché chiaramente noi ne abbiamo molto bisogno, eh. Che... Comunque mia moglie, sapete, le creme, le maschere, eccetera. Gli sciampi credo che già ci siano. E quindi siamo a posto. Anche questo è un pasto fatto. Poi prendiamo il telefono mio, il telefono di mia moglie, l'Apple Panty dell'iPad, la cartolina di San Valentino che aveva scritto a mia moglie, i soldi e un diamantino. Molto, molto semplice, che non entra nella scatola. Quindi... Poi abbiamo pure tutte queste scatole qua, dove all'interno vorrei mettere magari anche... No, non ce la facciamo. Abbiamo tutte queste scatole, piene di roba. Questi per i dieci anni del nostro villaggio. Qua ci sono dei telefoni, qua ci sono delle cose di Pasqua, mi pare. Qua c'è tutto. Non perdiamo niente. I cani li mettiamo anch'essi dentro una scatola, quindi aspettate. Perfetto. Il cagnolino e i gattini li mettiamo qui. E li porta mia figlia. La scatola, questa qua però, ce la portiamo. E non perdiamo niente. Quindi... No, come non perdiamo niente? Il nostro pappagallino, il nostro amico. Lui è molto importante. Lo porto io. Adesso chiaramente ci saranno anche le persone che ci aiuteranno con le robe. Perché comunque tutto solo, tutti soli non possiamo trasportare tutta questa cosa. Quindi al massimo noi portiamo questi scatoloni un po' più pesanti e gli altri portano questi. Quindi adesso facciamo vedere le persone che ci aiuteranno. Ciao ragazzi! Ciao! Loro sono due mie amiche e si sono offerte per portare queste scatole davvero molto leggere con all'interno niente di che. Adesso possiamo finalmente trasferirci in 3, 2, 1... Ragazzi siamo appena arrivati! Entriamo dentro e posiamo le scatole qui davanti. Wow mamma, tu non puoi capire! Ah mio, ma è stupenda! Ragazzi ma davvero è bellissima! Sì, è io l'ultimo! Che cos'è questa cosa? Wow! Vabbè noi ce ne andiamo, togliamo il disturbo, godetevi! Allora, ciao! Ragazzi! Facciamo un mini-tour, va? Sistemo tutte queste cosine e vi facciamo un mini-tour. Ok ragazzi, diciamo che abbiamo sistemato un po' tutto e abbiamo capito anche le varie stanze ed è stupenda. Adesso ve la facciamo vedere. Allora, partiamo da qui fuori. Qui fuori abbiamo il giardino. Qui fuori abbiamo il giardino col... col vero campanello e le telecamere. Comunque le telecamere in una casa come questa servono, tanto anche. L'allarme, così prima di uscire mettiamo il codice, in modo tale che se entra qualche ladro in casa suona e ci arriva anche una notifica nel telefono. Poi qui abbiamo il nostro papagallino. Qui un tritacarta e uno studio. Così. Dove abbiamo anche lo zaino, di nostra figlia, la uia e tutte cose. Quella lampada è stupenda, è questo quadro. Poi qui c'è l'ascensore, ma non ci interessa per il momento. E qui abbiamo la cucina. Allora, la cucina è composta da questo mobile. Lungo dove dentro abbiamo messo cereali, salsa, pasta, uova, zucchero e smarties. E qui sotto il pane. Poi qui abbiamo il forno. Poi qua abbiamo messo tre piatti. Tre bicchieri, tre tazzine e una tagliera. Lì sopra la macchina del caffè. Poi qua abbiamo messo sale, pepe, posate, pentola, padella e vassoio. Un vassoio per, cioè, sapete no? Posso sempre servire i vassoi. Qua sotto il secchio per pulire e qui il prodotto per lavare i piatti, il sapone. Qui abbiamo la lavastoviglie. Qui abbiamo questo bellissimo frigorifero. Così. Che qui abbiamo messo le cose da bere. Qui abbiamo messo la carne. E qui abbiamo messo gli ortaggi. E qui tutte le cose da mantenere fredde in freezer. Tra l'altro questo figo ha la particolarità che se io per esempio voglio una spremuta di una limonata, clicco il limone e mi da la limonata. E la posso sorseggiare. Buonissima. E poi riposo il bicchiere. Poi qui abbiamo il tavolo. Abbiamo tre sedie e un seggiolone per i bimbi piccoli, poi capirete perché. Poi qui abbiamo le ciotole per i cani, due quadri, cioè per il cane e per il gatto. Il gatto e il cane. E qua abbiamo queste tende bellissime e stra funzionanti. E questo lampadario. Stupendo. Qui abbiamo il salotto. Dove abbiamo i telefoni. Quello mio. Mio marito. L'Apple Pencil che... Oh, questa me la devo mettere nello zaino. Aspettate. Scusatemi se vi sto rubando la visuale. Ma... Ok. Possiamo continuare. Qui abbiamo il salotto. Con... La playstation. Poi... Due candele. Una cartolina. Un appennipagni. E questo lampadario è stupendo. E questo divano. Stupendo. Infine qui abbiamo il bagno. Con ancora uno scatolo del tasloco ma non ci fate caso. Comunque qua ci dovrebbe essere un cestino quindi potrei buttarglielo benissimo dentro. Teoricamente. Esatto. Allora. Qui abbiamo questo armadietto stupendo dove abbiamo messo tutte le nostre cose. Poi qua abbiamo questa scatola dove abbiamo messo le accappatoie e le tovaglie. Il forno, le spazzole e il pettine, la piastra e il ferro per i boccoli e il sapone. Qua abbiamo la doccia che è bellissima e poi possiamo passare al piano di sopra. Salendo in ascensore possiamo passare al piano di sopra. Benissimo. Al piano di sopra troviamo qui un'immensa piscina con questo gonfiabile a forma di dollaro e questa griglia per arrostire. Qua ancora è da arredare. Poi più in qui troviamo la camera da letto mia e di mio marito. Da qui abbiamo questa mega libreria. Poi qui abbiamo una culla. Poi qua è il letto matrimoniale. E infine qui l'armadio. Sopra ci sono i tre vestiti che uso di più io e sotto ci sono i vestiti che uso di più marito. Qui ci sono i miei vestiti, qui i vestiti di mio marito e qui ci sono i pigiami miei e di mio marito. Poi più in qua la signorina ha avuto fatta la camera da sola a parte. Quindi ecco qua la camera sua. La camera sua è pure davvero bella. C'è una cuccia per il suo cane, qua un cassettino sotto il letto, qua il suo armadio e un bel tappeto. Poi qui infine abbiamo... No, non è vero, infine. Qui abbiamo il bagno, il secondario bagno con la vasca idromassaggio che potete vedere se schiacciamo questo bottone fa le bollicine. È davvero bella. Con il lavandino, questo specchietto perché sapete, alle femmine per farsi le sopracciglia, eccetera, servono sempre. È il WC. Infine qui abbiamo la lavanderia. Qui abbiamo il mocio. Qua abbiamo degli scompartimenti per mettere sapone per vestiti e cose varie. Qua abbiamo un lavandino. Qua invece abbiamo la lavatrice. Io per esempio qui dentro metto i panni sporchi. Poi metto il sapone. E attivo la lavatrice. Poi qui c'è anche il robottino per pulire casa. Come potete vedere io lo metto, lui cammina e pulisce. È un secchio. C'è un secchio, un cestino. Detto questo, la casa è finita. È davvero stupenda. Ma... Dream, dream. Rispondo io. Pronto? Oh, salve. Sì, io sono Chiara. Sì, sì, sono io la luna nuova nella università. Domani? Va benissimo. Preparo le valigie. Arrivederci, arrivederci. Mamma! Tesoro, che c'è? Erano quelli dell'università. Io domani parto. Ah. Wow, brava. Andiamo di sotto. Mamma, mamma, mamma. Devo preparare subito lo zaino. Voi andate nel salone e fate qualcosa. Non lo so, non mi interessa. Devo prepararmi lo zaino. Allora, cosa ho dentro lo zaino? L'iPad, va bene, l'astuccio, i libri, gli Smarties, me li mangio. L'acqua e l'astuccio. Allora, mettiamo l'iPad, l'Apple Pencil, libri, tutti quanti i libri che ho, perché devo essere super 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 informata su tutto. L'astuccio, vado a prendere l'acqua nuova. Aspettate. Allora, questa, che è calda, la rimetto in frigo così si raffredda. E questa bella fresca la metto nello zaino. Perfetto. Lo metto qui davanti la porta così sono a posto. Vado a cercare i vestiti per domani. Ecco, mi è arrivata al secondo piano. Devo subito scegliere dei vestiti da mettere domani. Allora, vuoi essere comoda. Quindi, penso proprio di mettere questo qui. Sì, decisamente. Oppure questo? Va bene, metto questo, dai. Carino. Metterò questo. Perfetto. Mi metto il mio pigiama e lo metto qui sotto. Sono super felice, oddio! Ok, posso scendere di nuovo al piano di sotto. Ok, mamma, ho fatto tutto. Adesso penso che possiamo salutare i ragazzi. Sì, esatto. Avete proprio ragione voi due. E qui niente ragazzi, ci vediamo più tardi con un nuovo video di Chiara che va all'università. Ciao! Ciao!